Tanta gente questa sera in Consiglio Comunale per dire di no al progetto della centralina sul San Bernardino, una battaglia vinta, almeno una prima battaglia. Sì, una prima fase l'abbiamo vinta, diciamo. Ecco, il Consiglio Comunale di Verbania si è posto questo tema e ha detto di no a questa centralina, anche perché in effetti secondo noi come comitato ci sono obiettivamente tutte le ragioni per dire di no a una centralina che va a infiggere in una zona paesaggistica e naturalistica di particolare pregio, è una zona che diventerebbe canale di collegamento tra il Parco della Val Grande e Verbania, come pare che sia negli intenti anche con delibere del Comune di Verbania, due delibere in passato e una del Comune di Cossogno. Quindi riteniamo inopportuno un manufatto di questo tipo. Il vostro comitato è partito e ha raccolto tantissime adesioni. Sì, sì, tantissime. Siamo contenti che stasera il Consiglio Comunale ha espresso un parere favorevole. Io volevo solo aggiungere che non è una lotta solo del nostro comitato, ma questo del vino idroelettrico è un problema che sta suscitando perplessità a livello nazionale. Nelle settimane scorse sono stati a Roma i rappresentanti di tutte le associazioni, gli enti e i comitati che si stanno occupando di questo e hanno consegnato una petizione sottoscritta da 154 associazioni proprio per chiedere al Ministero una revisione di questa legge sugli incentivi e sulla dichiarazione di pubblica utilità di queste centraline. Ha presentato lei l'ordine del giorno per andare incontro alle richieste dei cittadini preoccupati da questo progetto di centralina sul San Bernardino? Come Partito Democratico consapevoli che comunque questa tematica non è una competenza del Comune di Verbagna abbiamo comunque fatto lo sforzo di accogliere delle istanze importanti in cui crediamo manifestarle e chiaramente portarle alla deliberazione del Consiglio Comunale. pensiamo in questo modo di poter rafforzare una battaglia che crediamo giusta che non è contro l'ideolettrico chiaramente, non è contro i privati ma esprime una sensibilità, una preoccupazione penso della popolazione rispetto a un intervento che può essere fatto magari meglio o magari fatto altrove, non lo sappiamo.